Ed eccoci qua, buongiorno ancora buongiorno, ormai la mattinata è piena, la mattinata è pazzesca e quindi visto che siamo a tema artisti, a tema Sanremo, a tema Sanremese abbiamo già da questa mattina che vi annunciamo che ci saranno, ci sarebbero stati importanti ospiti e noi le promesse le manteniamo e proprio per questo do il benvenuto al mio amico, unico e inimitabile grande artista Flores del Sol, eccolo qua, ciao Flores, ciao a tutti, grande, come stai, come stai? Tutto bene, tutto bene, si fa musica, si va avanti e sono contentissimo, contentissimo. Ma noi lo sappiamo che fai musica perché tu fai veramente musica per davvero, proprio come un missile, anzi direi quasi come un freccia rossa, ma poi dopo capiamo il perché, quindi raccontami un po' come sta andando, come sta andando. Guarda, è un momento molto bello perché la cosa si sta cominciando a riprendere, io parlo per me, cominciano ad arrivare le prime richieste di compilation, sono contentissimo, dai, dopo tanto tempo che nessuno chiedeva dei brani e adesso la gente mi fai, mi fai, mi fai, io quello sai sono, mi piace farli e poi se facendo quello ci posso portare il piatto di minestra a casa, ovvio, ma certo, questo è il bello, il succo è proprio, è proprio questo, quindi Flores, adesso c'è un progetto importante che è uscito da poco, è fresco, è nuovo, e questo brano, allora intanto dimmi tu il titolo perché io non vorrei fare figuracce, non migliori, ok, perfetto. Il tradotto sarebbe non ti piangere addosso, il messaggio è questo, è fatto apposta in questo momento particolare così, cercando di fare un richiamo a quella forza interna che abbiamo dentro tutti noi esseri umani di cercare sempre di non piange cerdos non si può guardare indietro non si può uno lamentare il discorso è guardiamo avanti quello che è andato è andato che ho avuto punto che ha dato adatto guardiamo avanti c'è il futuro c'è questo oggi che bellissimo si siamo alzati abbiamo avuto la possibilità di essere vivi e respirare anche oggi la cosa il messaggio è quello positività e allegria guarda lo dice la canzone c'è un domani io sta aspettando lo so bene so nel senso che tu hai dei testi molto molto belli e la gente lo capisce nel senso guardi o cellulare in mano non per scortesia ma perché stanno continuando arrivare messaggi adesso che ti salutano dalla provincia di ferrara ti salutano da verona precisamente francesca di verona stanno arrivando ancora altri saluti in diretta altra provincia di ferrara ciò è un saluto al grande flores unico e bravissimo artista che tu conosci molto bene verissimo quindi ci saluta anche tutti i ragazzi grazie tanti tanti saluti bella rigea marina tuo territorio flores altri anche saluti da bella rigea marina quindi e siamo collegati da pochissimo è da solo tre minuti e inoltre c'è un'altra anche un'altra bella notizia che te la svegliamo così flores in diretta così magari vediamo anche speriamo il tuo sorriso adesso vado a recuperare la regia che mi sta mi mi aggiorna sempre con tutto ha intanto è uscito il giornale è uscito il giornale pantheon che è il giornale il mensile di verona dove si parla chiaramente di tutto di tutti gli artisti le storie ed è uscito oggi il nuovo pantheon magazine in copertina max fogli e all'interno si parla della nuovissima compilation di radio adige tv che oltre ad essere la compilation che sta arrivando sul territorio italiano nazionale e anche sul digital store ovviamente arriverà in tutto il territorio anche in formato fisico e la facciamo vedere che è proprio questa guardate che spettacolo e la cosa più bella e curiosa e qui flores te lo confermiamo perché è stato confermato che all'interno ci sarà all'indj flores del sol calmao quindi vamo è già è già fantastico io ti ringrazio per davvero per per questa possibilità chi non ci conosce chi non conosce la nostra storia artistica andate la scoprire un po sui social e adesso comunque focus su nome giores l'ho pronunciato bene almeno sì sì per fortuna e abbiamo visto che comunque anche sui social network sei seguitissimo e anche nel mondo orientale correggimi un sacco di coreografie per sui tuoi progetti è vera questa cosa raccontaci un po come è arrivata guarda qua quante quante coreografie si già già dal dal brano bailando se una facciata che uscita a maggio a maggio 2020 mera esattamente mera successo che aveva preso piedi questa canzone laggiù sembra che che gli asiatici sentali li piace questo 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 flore del sol e ogni volta che no ogni volta no perché è successo con bailando poi ne ho tirato fuori un paio di 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 brani ancora ma così così e adesso e con con questo nome giores li sembra che che le è piaciuto ancora l'altra volta e se cercate sotto il titolo nome giores flores del sol potete vedere che c'è una marea una marea di asiatici diciamo che sono nella corea del nord e scusa la corea del sud e la indonesia mi sembra che si sta un po filtrando la cosa anche in shanghai shanghai non è male no per niente sul posto al mondo è male un artista che può dire la mia canzone si sta ascoltando in capo il mondo e questo è una vera bella soddisfazione a casa io lo dico a casa agli artisti emergenti che magari ci stanno seguendo prendete parole sacre queste parole sacre di flores del sol prendetele scrivetele le tatuate vele perché un artista non fa dell'artista solo la musica fa la passione l'umiltà l'impegno tutto quindi davvero grazie flores noi intanto ricordiamo che quest'estate speriamo in un'estate che possa partire ma siamo già pronti per lanciare anche un po il nostro progetto live quindi non solo le mie serate da solista le tue serate da solista ma anche le serate unite quindi flores del sola l'endj con la band quindi faremo veramente di cote di crude speriamo insomma speriamo si 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 andremo per ripartiremo più forte di prima vedrai assolutamente assoluta voglia poi la gente ha messo un sacco di soldini in questo periodo che non si possono spendere quindi vero vero speriamo allora partiremo alla grande sì io davvero ti ringrazio tanto 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 per essere stato oggi con noi e proprio per questo grazie e allora a questo punto flores io ti cedo a te la parola lanciaci il tuo brano perché lanciato da te è molto molto più ficco e quindi prego a te la parola signora e signori un richiamo alla nostra forza interiore no mellore musica 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 Háblame, dime algo Cuéntame lo que está pasando Inútil que tú te estés ahogando En un mar de lágrimas ya para el llanto No me llores, no, no, no me llores, no, no No me llores, ay no me llores No me llores, no, no, no me llores No, no, no me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores más ni un poquito Que no vale la pena, repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Que no es pa' nada Hay un mañana Que está esperando Caminando Se va a olvidar Todo lo malo Se va a quedar No me llores, no, no, no me llores No me llores, no, no, no me llores Ay no me llores Ven conmigo que te quiero enseñar Un mundo nuevo se abre siempre al despertar Cada uno de nosotros es especial Nadie diga que no lo puedes lograr No me llores, no, no, no No me llores, no, no, no No me llores, ay no me llores Seguimos adelante un poquito Metiéndole pasito a pasito Cada día en las mañanas Sé más fuerte al despertar Que no me llores más de un poquito Que no vale la pena, repito Que la vida es una sola Tenemos que aprovechar Para el llanto Que no es pa' nada Que no es pa' nada Hay un mañana Sí Que está esperando Que está esperando por ti Caminando Caminando, caminando Se va a olvidar Se va a olvidar Todo lo malo Se va a quedar Se va a olvidar No me llores No, no, no No me llores No, no, no No me llores Ay no me llores No me llores No, no, no No me llores No, no, no No me llores Ay no me llores